Sindaco Cucchielli, nuovo camper vaccinale che sarà qui nel punto Tamoil dal 20 al 22 di ottobre, un motivo in più per sollecitare i lavoratori a vaccinarsi? Intanto vanno due ringraziamenti, uno alla CNA per aver scelto questo luogo, abbiamo messo a disposizione i locali del comune che sono qui alle mie spalle, per aver scelto un luogo centrale degli operai e delle imprese, questo è il cuore di un'area industriale di circa 50.000 abitanti. Il secondo ringraziamento va all'Azur, all'area vasta Magnoni, a Elisabetta Esposto perché sono veramente straordinari, a tutti gli operatori e anche quelli che fanno materialmente i vaccini, solo il vaccino si salva, io penso che si convinceranno oramai anche gli ultimi resistenti perché noi abbiamo diverse classi, soprattutto nelle colline dove sono più forti quelli che non hanno fatto il vaccino e che sono chiuse, sono a casa, e quindi si fanno dei danni incalcolabili. Se vogliamo ritornare all'economia piena, a competere sullo scenario internazionale e mondiale, ad avere la piena occupazione, finché non abbiamo sconfitto il vaccino, il Covid, bisogna fare il vaccino, quindi credo che non ci siano altre soluzioni. Noi come CNA di Pesaro Urbino, attraverso la nostra società Master Quality, che è la società che segue la sicurezza e la salute nei posti di lavoro, siamo sempre stati in prima linea, fin dall'inizio, fino all'attuazione dei protocolli, all'inizio della pandemia e oggi con la vaccinazione. Noi crediamo fortemente nella vaccinazione e pensiamo che sia l'unico strumento per uscire da questa crisi, sia sanitaria che economica. Siamo sempre a fianco delle nostre imprese, siamo a fianco dei lavoratori e dei nostri imprenditori e pensiamo che la tutela della salute pubblica deva prevalere sull'interesse dell'individuo a non vaccinarsi, perché la non vaccinazione poi mette a repentaglio e mette a rischio la salute pubblica e anche il lavoro e tutto il sociale. Per ritornare alla normalità, il nostro slogan è quello di fare il vaccino e di mettere a disposizione a tutti anche la possibilità di vaccinarsi senza né prenotazioni e senza tanti addempimenti burocratici. Quindi abbiamo sposato in pieno la campagna vaccinale con camper itinerante sul territorio, soprattutto nell'entroterra e soprattutto in quei posti dove magari rimane più lontano i centri vaccinali con camper si ha la possibilità anche per, soprattutto per chi rimane lontano da questi vaccini di fare il vaccino a pochi chilometri o a poche centinaia di metri da casa.